E' così vincolata a Napoli, sempre per essere addolorato, come ho detto, e ho visto, perché non sono uno che segue tanto la musica, ma Napoli è, è calore, vedo che lui chiaramente ha il sentimento, il cuore, tutto questo che si vede nella città, che si vede guardando l'immagine che ho visto nella canzone, credo che ha tutto il sentimento della città che è importante capire. Dobbiamo approfittare tutto quello che abbiamo fatto contro la Juve, vincere la Supercoppa, la carica della squadra, il gioco, tutto questo che abbiamo visto in questa partita, credo che dobbiamo approfittare, sappiamo che abbiamo bisogno di continuità e abbiamo l'opportunità contro il Cesena di fare una buona partita, di vincere e avere questa mentalità giusta per affrontare tutto. Sempre siamo attenti al mercato, chiaramente l'abbiamo detto tutto l'anno, ma adesso ancora di più, perché si ha perduto, arrivare a questi due giocatori ha permesso alla squadra bilanciasse un po' meglio, perché abbiamo qualche difficoltà, due giocatori che hanno qualità, che ha viadini anche italiani, giovani, giocatori per il presente e anche per il futuro. Per questo credo che è un passo avanti dal punto dove eravamo prima e ancora siamo aperti, guardiamo, vediamo che facciamo in questi giorni, ma soprattutto per decidere, strinice è facile perché prima e sinistra, puoi giocare alto o alto basso e con Gaviadini dobbiamo decidere, credo che la cosa più importante sarà parlare con lui, vedere dove si sente più comodo e dopo decidere quello che sarà meglio per la squadra alla fine, perché lui può giocare quasi quattro ruoli e dobbiamo decidere dov'è meglio per lui e per noi. Grazie.